Salve a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo su Mitch Tuning Oggi farò un video abbastanza semplice di montaggio di led interni all'alfamito In caso voi voleste dargli un tocco estetico più raffinato Quindi andiamo a sostituire le solite lampadine incandescenza gialle con i led bianchi Ok bellissimo Proveniamo subito a smontare la proponiera anteriore Ci saranno due gancetti agli estremi Se non riuscite con le mani comunque provate con un cacciavite piatto ma è abbastanza facile Poi raccomandazione invece di tirarla verso il basso la tirate verso di voi Se non potre essere un pre-divine Poi raccomandazione invece di un po' di chiama Questa è un po' più rognosa perché ci saranno due alette che vanno ad aprirsi verso l'esterno Quindi è un po' più tosta Comunque io già l'ho un po' aperta Poi qua ci sta il solito cancio quindi magari alla prima apertura basta infilare un cacciavite piatto Piegate la levetta e poi con più delicatezza possibile sfilate la funiera Qui abbiamo la nostra lampadina E niente funziona Il procedimento in questo caso non c'è bisogno di piegare le alette perché la lunghezza va già bene Ok Ok